Mi bacia il primo ragazzo che incontro Bello questo ascensore Nutritissimo il reparto d'attacco che ha avuto la Cavese versione 2023-2024 con giocatori che sono arrivati a inizio stagione e altri che sono giunti durante il mercato di riparazione per sostituire chi è uscito La squadra ha comunque sviluppato il migliore attacco della Serie D Girone G con 57 gol e nelle altre competizioni ha messo a segno ulteriori 14 reti Sui 71 gol totali, 45 sono stati segnati dagli attaccanti L'iniziale progetto era volto a utilizzare tre over in avanti Addessi a destra, Foggia al centro e Felleka a sinistra Tutti e tre hanno fatto bene Soprattutto Addessi e Felleka hanno saputo avvantaggiarsi a un certo punto con il dribbling creando superiorità numerica Anche se a un certo punto la squadra da novembre non ha praticamente mai più giocato col tridente Qualche alternativa giovane occorreva Infatti si sono visti soprattutto nella Coppa Mercurio, Mori e Chiarella con quest'ultimo che ha avuto molto spazio anche in campionato Gli Aquilotti hanno cambiato anche il modo di giocare dopo i primi mesi Anziché ricorrere al gioco corto hanno preferito verticalizzare per cercare di servire le punte più in fretta possibile e magari anche sul filo del fuorigioco Così hanno segnato molto L'alternativa di esperienza che c'era in avvio di campionato si chiamava Federico Piovaccari Difatti sapeva prendere le decisioni giuste per far sì che la Cavese potesse riportare avanti il baricentro anche nelle partite in cui era attaccata Ma Piovaccari era arrivato già a corto di preparazione Difatti dopo una quarantina di giorni si è dovuto fermare per problemi muscolari per poi rientrare a ottobre e segnare un gol al Trastevere Molte possibilità di andare a rete le ha avute il gambiano Musa Sov ma gli è mancata la mira Lo giudice ha comunque cambiato pedine strada facendo Svincolando gli stessi Sov, Mori e Piovaccari e dei tre rinforzi presi in attacco il più indovinato è stato Matteo Di Piazza Giocatore esperto il quale si è dimostrato fortemente incentivato a giocare per la Cavese avendo anche la famiglia Cavale Tirreni in pochi mesi Di Piazza è diventato capocannoniere dei suoi anche davanti allo stesso Foggia il quale pur rimanendo il capitano tecnico della squadra ha capito di dover mettere da parte obiettivi personali e di concentrarsi più sull'aiutare la squadra cosa che ha fatto Di Piazza ha segnato 12 gol 9 li ha realizzati Foggia così come a Dessi 5 gol li ha segnati Felleka parecchi dei quali nel girone di ritorno Elhaj Geij, l'attaccante franco-senegalese si è visto a sprazzi e anche Alessio Faella pur essendo stato ritenuto un gran colpo a dicembre si è visto a sprazzi talvolta utilizzato in un ruolo che non era propriamente quello della punta curiosità a questo punto per capire come sarà il progetto tecnico della Cavese che verrà si continuerà col gioco diretto si tornerà a una manovra più ragionata si continuerà con due punte o si riproverà col tridente sarà lavoro per staff e dirigenza